Ciao a tutti, sono la Mauri. Oggi sono qua per spiegare la linea Specifique di Kerastase, una linea composta da solo shampoo ed è nata per curare le varie anomalie della cute. Abbiamo il Byte Divalent, è uno shampoo che serve per sistemare la cute un po' pesante, grassa, dove comunque abbiamo un eccesso di sebo. Va utilizzato come un shampoo normalissimo, quindi applicato in cute, un goccio d'acqua, massaggiato e risciacquato. Ci aiuta quindi a dare un tocco di leggerezza e di idratazione e le lunghezze abbastanza secche, mentre va ad asciugare la nostra cute. Poi abbiamo il Byte Prevention e il Byte Stimulist. Sono due shampoo che ci aiutano comunque ad aiutare i primi segni di caduta. Abbiamo il Byte Prevention che è specifico per un capello normale, mentre il Byte Stimulist è specifico per un capello fine. Comunque vanno abbinati anche alle fiale anti caduta. Dopodichè passiamo abbiamo il Byte Exfoliant Hydratant e il Byte Exfoliant Purifiant. Questo ci aiuta a sistemare laddove ci sono piccoli problemi di forfora, semplicemente che uno è per la cute con forfora grassa, mentre l'altro è per la cute con forfora secca. Grazie a tutti, ciao!